Ciao astronomi! Oggi voglio mostrarvi questo bellissimo EvoStar 120 EG Telescope con il nostro microfocusser e sistema supporto e voglio mostrarvi come l'uso del nostro focuser e sistema supporto migliora questo telescopio per l'astrofotografia. Ok, la prima cosa che vedete qui è che abbiamo cambiato il focuser con il nostro modello esatto 2 in, connetto con l'OTA usando l'adaptor proprio che funziona anche per l'80mm e l'100mm da SkyWatcher. E questo ci dà non solo un controllo motorizzato del focuser con il controllo da un computer, dall'Eagle o anche con il Wi-Fi con una handpad virtuale, ma anche un focuser che offre una capacità di pesca molto alta per aiutare di usare anche accessori di astrofotografia molto pesanti. E uno dei più interessanti di usare l'esatto microfocusser con i telescopi EvoStar SkyWatcher è che trovi il stesso filo nel tubo di esatto che c'è anche nel reduzione del focal. Quindi in order to reach the focus you just add two of the 15mm extension for the esatto 2 in and then you can directly thread the focal reducer on the back. This way you will be able to reach the focus. This special version of the SkyWatcher EvoStar 120ED comes with our plus support rings that we specifically designed in order to avoid any flexure in astrofotography and to let you personalize your support system for telescope. For example, you can install the Eagle with the 60mm guide scoping parallel. This way you can remotely control and power all your preferred astrofotography devices without any limitation and with the Windows software you prefer. This SkyWatcher EvoStar 120ED is a great apoclomatic refractor telescope that you can use both for visual and for astrofotography. And now it's even better thanks to the plus support rings and the esatto microfocusser. Kauf anciafer.